hai tu hai, vai, hai toglia cosa hai, hai tu hai, hai tu hai, non ce l'ha dato che hai aperta Anuca l'hai berbeccuto ? Berbeccuto è questa? C'è, c'e, c'è, c'è frumosa face la cornea Hai n'è? C'è frumosa ci sta? La qui c'è, c'è, brava, ehm, io lascio il capo io non lo so Non c'è più facile. Non c'è l'ampo non c'è nulla, non c'è nulla, ci aici mi sono lungo, facendo le parole, non c'està il tuo tempo, non c'è ce l'ai fatto. C'è il tuo tempo? E la tattus. Mi lasciano? Imi lasciano me rinigare. Ili lasciano, non c'è te troviamo. E specialmente la terna ferie delle ore. e che cosa ha fatto? Viene aci e mai aproape daca che vede non è asa non è asa blando vedi che sono una ejemplare vedi che eccelline è una cosa fai c'è un raro ma non, c'è un pezzo c'è un pezzo mi chieste aci e adornare iasca il piatto E' un cioto acipa a memima a chi pò ma non c'è. E' un cioto a mi listeners. E' un cioto a memima o cance Ce n'u siano caldini la campione e una ciotola. E' la ciotola. E' la ciotola prima la campione la campione. E' la ciotola prima lei。 E' la ciotola prima. E' la ciotola prima. Espir E' la ciotola prima. sono немножere come si riconoscono un po' di uomo non ci metto un è più qui non ho detto cosa un libro non è così è un po' di sabato ma ricordi sono divertenti ma sono una buona se non ti fa non si è più era l'unico se che è che c'è ersi l'unico ci sono anni No, c'è io che dico che non mi crede lì ho fatto Stai lì! Stai lì, io non mi vedo andermi a parlare Un sentire Tò che non mi chiede non mi chiede Noi qui non mi fè, non mi chiede lì E' un po' che non mi chiede lì Non mi chiede lì, non mi chiede lì Già revertà lì, non mi chiede lì Getto lì, io vi dico che non mi chiede lì Ero lì, non mi chiede lì Mi voceptiono mai aio? Mi vo포 da unereio. Sicuramente non ho sapato. Mi voglio tutto. Hai senso. Tu sei una turma frumoasca di uoi. Sì, no. Poi internet, costruo così, con voi. Bsi una delle uno sul internet, mi ho detto, echt è giusto l'astao? Adesso mi sento un altro, dicevovovovovotico e io lo faccio. Lo faccio io? Ne faccio io, ma vengo? La ce prezzo si lo metti? Se non mi sapeva che non mi sapeva. Ma non mi sapeva che non mi sapeva che non mi sapeva. La cun del mea mi asceglie e usci da. Da, da, se non le intorce. Se non le intorce. Se non le intorce. Sì, scus, scus, scus! Sì, scus! Ma sono tornato un po' a nato, l'avamo riuscati per capo, ma sono tornato un po' a nato. Sì, scus! Sì, scus! Sì, scus! Sì, scus! Sì scus! Sì scus! Sì, sono in coace. Ia! Non mi stighe așa, non mi stighe așa. No, asculte, se intorc. Ia, che viene in gioco. Unde mergaci l'asta or? Aciù in più. Aciù in più. Diciamo a cercare l'arga. Diciamo a cercare l'arga, non è? Diciamo a cercare l'arga. 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 L'uomo si fai... tu vieni in capa si fai passato perchè si fai passato si fai passato Questo è tutto quello che ti mostre. Hai, eccoci, vediamo un aglio di vancire, inizialmente. Vai trattare il cristiano. Il si è venuto iniziale, avanti so farmi un eccociore. No, ti sono meno. E lo faremo perché ne fate? Se non ti piace il hancio, lo giveaii ancora una volta. Inizio. Zou! Hey! Ma che! Uno nuovo! Non vedece, perchè mi sono stato un potevo! Mi sono stato un potevo! Perciò mi si andre! Sa vedeusto! Ia ca mu se dipende da bene in capat? Si mu è fatto? E' bello, mi sono molto faiato, come vedo ciò che vedi l'altra finestra. Non lo fosse, non lo fosse, non lo fosse. Non lo fosse, non lo fosse sicuramente. Qu'estera così? Chiariamo un po' di vino. Chiarò che vedevano a venire da borsa. Chiarò che vedevano a venire? Noi mi sono lì, d'allessere. Non mi piace che le miei oiei, non mi piace che le miei oiei. E' si normal. E' si normal. E' si normal. E' si vedea di fata un pic, sicur. Altfel se vede. Ma ved che è curato, non è scuscai, e' aia non è... E' questo è... E' il bato, il bato a cattaro, no fattug cattaro. Ma ved' alczi, ma ved' alczi, ma ved' alczi, ma ved' alczi. D'alò non ci pare, ma ved' alczi, ma ved' alczi, vedi, non è bua, non è bua, non è bua, non è bua. Ma ved' alczi, ho mai luato un, e due, e due, stai team. E' si allora non si avuta. Se non si avuta. Ma ved' alczi... Non si avuta. Se non si avuta. non si stiava, non si stiava ma non si stiava si stiava, si stiava si stiava si numai singura a smuls? sau cati a smuls? si numai singura a smuls? si numai singura a smuls? inodată in struga cu catelul nu de-n strunga catelul nu de-n strunga catelul nu de-n strunga de? poate nu au venit hai bagam noi catelul si asta in strunga hai sa lu nu m-am legat pe ii mers ma iar ceva a smuls? dar iar sa am in strunga si s-am in strunga si s-am in strunga pe nicola nu mai fac sa nu nu niciodată Ma venite, io non l'ai fatto con mano. L'ai visto che è così mai inainte, sì. C'è bisogna essere anche lui, di un canino buono. C'è un canino buono. C'è un canino in un'altra parte, e un canino, e un canino, e un canino, e un canino. C'è un canino? C'è un canino? Ma hai avuto il canino? Non c'è l'è? Ci ti è l'è? Da, fuce. T'asci il canino! 다른 canino! C'è tu lì al? Lui ma, è quello che credo. E' un pozzo. E' un canino può essere… Ti sono bravata all'altro. Si? Poi, non lo so se è più bravo! Cosa, quando mi mi spio, andiamo a mettere le pizioni di cazzo di fronte, e così l'ho tirato da me in fronte, e non si non mi adè. Beh, dei dati dati miei, non? In prima volta i asiditi. Da, prima mia l'ai uscire. hai scelto si vedi la batteria stai bucata e che frumos si ala de se uita in calcio e sa vedi che è un belbec taner da e in New York ma non è in New York e frumos Fai l'ageno! Si fai l'ageno! Ma se cazda il caos... ...data 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 il caos... ...ai...ai! ...aia ce majoritàtia si brezza din ce patiu? Sì, sì, sì. Aici è il crotal rosso, questo non è riuscito. Quindi, con il crotal rosso è il riuscito? Da, non è. Ma c'è ancora non ha dato il riuscito? No. Aici, questo è il riuscito. Hai, 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 hai. Non ho senti, non ho senti. Non ho senti. C'è questo? Non ho senti, è un riuscito? Beh ok. Beh no, beh no, è questo. È questo? C'è questo, è il riuscito, sa faccia la f Untichetto. È questo. È questo? Quindi ci sono un riuscito di affidirete? Beh no. Questo è il riuscito. Beh no, questo è il riuscito. È questo, ma è il riuscito di farcia la fiatzza. È questo. Acheci, non ci sono state mervevole di erbite ma che sono state mervevole scoprile. Si è questa oia, è buona bella. Hai pe, hai cè, buttati! Hai, hai! a vatti una exemplare anche i fatti i berbetti e anche il carico l'allia 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 Ma perché l'alimenti del questo. Il genere del questo. Avemo anche qui. Ciò che è una riforma. Ciò che è questa riforma, sono come le riforme, come si è? Ma non, ciò che si anche le riforma? Le riforme che è bene schimmate. No, 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 no E' piondre l'interno della medalla. Cosa ti fa? È come se ricoste? Piondre l'interno. Non potesse per anche se ricoste in tiasa. E' il mioire. Piondre l'interno della medalla di nurtura, ho deciso che mi vede a più delle ciò. Io ho risposto più omocchiano, perché tolgo a кабza del mioire. Si è molto molto, C'è il mioire? Di, la mia. per le loro ore non il corretto si questa è un vero è un vero una volta in ero ma ea ma è un vero ha visto quello che fai e sapevano per le loro non se fai Cosa è una banca, c'è una banca? Cosa è una banca? Cosa faci? L'am preso come poto, ma è bene. Cosa è una banca? Non ci ho detto, ma c'è una banca? Non ci ho detto, ma non ci ho detto. Non, lasa, che... Cosa è una banca? Si, sicur. Non è bene. La vita non mi bebega mare... Si se vede ca si asta e oaie mare. Si asta nu-i vede. E soi de oaie mare, ca se vede, se vede pe el. Mi pare bine ca am stat un pic si am povestit un pic. No, daca nu... Orice caza, o turma frumosa. O turma frumosa de oaie aci. Noi... Ce stai zic, io va doresc multa sanatate Si sa va puteti... Sa va puteti ocupa de... De animale in continuare. Sigur, sigur, sigur. Da, lasa ca... Ma mai opresc cand ajung a cip in zona. Da, sanatate si numai bine. Da, sanatate si numai bine. No, sanatate.